C'è stata un'ottima collaborazione in precedenza, c'è stato un passaggio di consegna che abbiamo fatto in giunta con Guido e sicuramente la linea è tracciata, la seguiremo e se riusciremo a implementarla meglio. Sono stati approvati tutti i rendiconti, quindi si riparte da zero in maniera che si possono fare investimenti, si possono fare delle progettualità e quindi stiamo bene. Ci sono tante cose, tante idee, vanno condivise con i colleghi e soprattutto con il Presidente, quindi faremo del nostro meglio.